Ciao a tutte, benvenute e bentornate sul mio canale Fare e Disfare. Come state? Come avete passato queste festività? È andato tutto bene? Siete state in compagnia dei vostri cari? Siete riusciti a passare un po' di tempo insieme a loro? Mi auguro di sì, spero proprio di sì per voi. Oggi siamo qui per, sono qui anzi, per fare il video dei preferiti di dicembre e guardate un po' che bella borsona piena che ho di prodotti da farvi vedere che ho finito appunto in questo mese. Però prima di iniziare vi invito a iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella se ancora non lo avete fatto e se vi è piaciuto il video è a lasciare un like e anche un commento che sapete mi fa sempre tanto piacere leggere. Ma iniziamo subito, inizio subito con alcuni detersivi che ho finito. Allora, il primo è questo, Winnie's, Winnie's Piatti. Ecco qua, io ormai lo compro da tantissimo tempo e come sapete io uso praticamente tutta la linea di detersivi della Winnie's sia per i piatti, per la lavastoviglie, per la lavatrice, per il bagno eccetera, perché comunque mi trovo molto bene. E niente, è finito, è finito il detersivo per i piatti. Anche questo mi piace come sgrassa anche perché diciamo che non lo uso più che altro per dare una pulita ai piatti prima di metterli in lavastoviglie. Altro detersivo sempre di Winnie's è questo sgrassatore universale. Ecco qua, anche questo qua io mi trovo bene, secondo me sgrassa benissimo e boh, e oltretutto appunto essendo completamente biodegradabile diamo una mano anche all'ambiente per quel poco che riesco a fare. Altro detersivo questa volta invece è, non è ancora finito, me ne manca pochissimo ma ve lo faccio vedere lo stesso perché ci saranno forse due lavaggi. È questo Vert della Chanteclair, ho provato a comprarlo, eco-detergente lavatrice, fresco profumo di eucalipto, efficace anche alle basse temperature. Anche questo mi sto trovando, mi sto trovando bene, lo uso soprattutto per i profumati, per i delicati, o comunque i colorati eccetera, e mi trovo bene. Allora detersivo, ecco sì l'ultimo, l'ultimo è questo che è un profuma biancheria, TR della Air Fresh, buonissimo, questo è veramente buono, dà un profumo, oddio sta uscendo ancora l'acqua, sta uscendo ancora qualcosa, ecco qua niente non riesco ad aprirlo perché c'è l'apertura anti bimbo ed è profumatissimo, è ottimo, buonissimo, mi piace, mi piace da morire. Ne avevo comprato un altro che vi avevo mostrato in un video, pensavo fosse un'altra, di un'altra marca invece è la stessa marca, però la profumazione è diversa, e comunque sia questa che l'altra mi piacciono molto, forse questa un po' la preferisco un po' di più però anche l'altra non era niente male. Ora passiamo alle cose mangerecce, insomma se insomma mangerecce poi più che altro qua si beve, comunque niente questo, ho finito una scatola di questo infuso della Pompadour, caldo abbraccio, Magic Emotion, è buonissimo, è forse uno dei miei preferiti di questo periodo, mi piace tantissimo, vediamo se riesco a dirvi che cosa c'è, frutta secca, no frutta scusate, frutta 63%, mele, rosa canina, scorza d'arancia, ibisco, aroma di uvetta, rum e arancia e cannella, ottimo, 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 poi senza glutine, per cui perfetto. Altri due infusi, sempre della Pompadour, che secondo me fa degli infusi veramente buoni, sono questi, melograno di persia e zenzero e mango thai, questo è spettacolare, questo se volete profumare la cucina, quando fatelo perché veramente ha un profumo fantastico ed è dolcissimo, è veramente molto molto dolce, probabilmente è proprio il mango che dà questa dolcezza e anche melograno di persia, mi piace moltissimo, col succo di melograno concentrato e al gusto di pesca, buoni tutti e due. Lasciamo parte e passiamo a due salse, che allora queste due salse me le ha fatte scoprire mia figlia, perché da quando è a Londra ha scoperto un po' varie cucine di varie nazionalità, insomma diciamo così, e oltretutto lei le ha scoperte a Londra, però le ho trovate anche qui da noi, qui in Italia, a Lesse Lunga, se non ricordo male, dovrebbero esserci questa, di sicuro a Lesse Lunga questa, non mi ricordo se l'ho presa in un altro supermercato. Comunque questa è la salsa sriracha, qua la vedi, qui il boccettino è finito, comunque è rossa e è molto piccante, infatti è un hot chili sauce e dentro c'è anche peperone, infatti sa molto di peperone, peperoncino e pomodoro, è buonissima. Io la metto perfino nel minestrone, perché mi piace dare quel pochino di piccante e anche quando faccio i legumi in umido, eccetera, a me piace da morire. Questa invece è sempre una sriracha, però è con la maionese, praticamente è maionese e salsa sriracha, vediamo se si riesce a farvi dire. Questa invece è arancione come il tappo, quando voi la acquistate è arancione come il tappo. Questa è una maionese piccante con un po' il sapore della sriracha, a essere sincera questa io la uso molto poco, preferisco quella, però anche questa non è assolutamente male, se vi piacciono però i sapori un pochino piccanti. E basta, sto guardando, e con le cose mangerecce abbiamo finito. Passiamo invece al beauty. Allora, ho terminato questo shampoo della L'Oreal, è il Viv Color Viv, shampoo protezione colore con estratto di peonia rossa e filtro UV. Questo l'ho preso per i capelli colorati, sì, capelli colorati o mesh, visto che io comunque mi faccio il colore, sì, mi sono trovata bene. Diciamo che non sono un'ottima tester per gli shampoo, non posso dire se secca le punte, perché sono veramente molto corti, però devo dire che questo shampoo me li lasciava molto morbidi, ecco, sembra quasi che sia shampoo e balsamo insieme. Quando appunto terminavo di lavarmi i capelli era come se avessi messo anche il balsamo, però non mi è dispiaciuto, mi è piaciuto. Altro shampoo è questo, sempre della Elvive, questa volta è olio straordinario, shampoo nutriente con oli di fiori preziosi per capelli secchi. Questo, allora, questo lo ha scoperto Giulia, l'ho scoperto Giulia, e lei ci si trova molto 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 bene, infatti sta usando solo questo come shampoo, anche perché appunto avendo i capelli molto lunghi le punte poi le si seccano parecchio, invece con questo dice che si trova veramente molto bene. Io l'ho usato, ma come dicevo prima, sì, mi trovo bene, sì, è uno shampoo, non che vale l'altro per me, ma alla fine non ho appunto queste grandi problematiche, però infatti Giulia lo sta usando ormai da tantissimo tempo e usa solamente questo ormai come shampoo. Poi ho terminato e ho finito, che dispiacere, ma vabbè, ho altre cose da usare, la shower cream, la doccia crema della Sienne, questa con l'olio di argan, che è spettacolare, ha un profumo stupendo, ma ve l'ho già detto tantissime volte, per cui l'ho finita, mi dispiace, appena avrò la possibilità di tornare alla Lidl, me la ricomprerò di sicuro, perché mi piace moltissimo. sempre della, no, questa non è sempre della niente, è questa della Balea, è il mio gel detergente per il viso, anche questo ne ho già parlato tantissimo anche in altri video, ottimo, ho finito anche questa, una confezione anche di questo. Questo qui invece è una mousse per il viso, della The Body Shop all'aloe, questa me l'ha portata Giulia da Londra, anche perché non so se ci sono negozi di The Body Shop in Italia, non ho idea, è ottima, mi piace da morire, io la uso solamente la mattina per lavarmi il viso la mattina, perché questa non strucca, è molto delicata, però fa questa schiuma molto, questa mousse molto morbida e mi trovo veramente bene, è formulata per pelli sensibili, è veramente, veramente ottima, mi piace molto. Ne ho già un'altra confezione che mi ha portato Giulia da Londra, perché è tornata per le vacanze di Natale e me ne ha portato un'altra confezione, per cui sono a posto. Ho finito, ho terminato la mia amatissima CeraVe, la mia amatissima, ne ho già un altro boccettone in uso, uguale a questo, ormai anche questa non sono una grande beauty, come si dice, influencer, perché uso sempre le stesse cose, non so consigliarvi da altro, ma veramente io mi trovo molto bene, ho risolto il problema della pelle secca, soprattutto sulle gambe, eccetera, e mi piace da morire, la compro e la ricompro. Una bellissima, bellissima, mi piace tanto la confezione, maschera della Balea, questa al cactus, vediamo cosa c'è scritto poi, con estratto di cactus e acido ialuronico, buona, mi sono trovata bene, mi è piaciuta, mi è piaciuto il profumo e anche come mi ha lasciato la pelle, buona, se mi ricapiterà, se le fanno ancora, perché anzi no, questa è una limited edition, probabilmente non si troveranno più, ma se dovesse riuscire la acquisterò ancora, perché mi è piaciuta molto. Cleanians, crema della Cleanians, Hydra Plus Lenitiva, questa, questa la usa più che altro Giulia, però l'aveva lasciata quando è tornata a Londra a settembre e l'ho finita io anche, perché non mi piace lasciare le creme aperte per troppo tempo, diciamo che non è male, per la mia pelle non va, non va bene, nel senso che come la metto al momento mi sembra che vada bene, poi invece mi sento la pelle come se non l'avessi messa, mi sento ancora un po' tirare la pelle, ho bisogno probabilmente di creme più nutrienti, però so che Giulia me ne ha fatta comprare delle altre, lei si trova invece benissimo, sicuramente per il suo tipo di pelle è perfetto, va meglio per il suo tipo di pelle. Ultime due o tre cose, ecco qua, ho terminato il correttore, questo è della Yves Rocher, ecco qua, vediamo se riesco a farvelo vedere, ok, è un correttore in stick, non si vede più perché è proprio finito, questo è il numero, sì riusciremo mai a vedere che numero è, ma neanche per ridere. Questo lo uso per le labbra, mi piace mettere il correttore sul contorno labbra perché non ho un contorno ben definito delle labbra, così riesco poi a uniformarlo con la pelle e poi passare la matita e mi trovo bene, sulle occhiaie no perché mi entra troppo nelle pieghette e per il mio tipo di pelle, per le mie occhiaie non va assolutamente bene, però mi sono trovata bene appunto per fare quello che vi dicevo e è un ottimo prodotto, quelli della Yves Rocher con i prodotti della Yves Rocher mi sono trovata sempre bene. Altro prodotto sempre di beauty finito è il Lush Princess di Essence, questo mascara, mascara nero e questo mi sto trovando veramente molto bene, mi piace tantissimo, io lo uso in combo con il volume booster, il volume booster sì che è il primer, quello bianco e mi trovo veramente veramente molto bene, ha lo scovolino un po' particolare, vediamo se si vede, vedete come è piegato, ma mi piace, mi piace come piega le ciglia e mi piace anche come mascara. Non appena aperto, dopo qualche giorno è sicuramente meglio perché appena aperto è abbastanza liquido, invece dopo qualche giorno prende la consistenza perfetta e va benissimo. Ultimo ultimissimo prodotto poi la borsa è vuota, la mettiamo giù, la mia cipria preferita della Kiko, non ancora la scatola, non so come mai, ma va bene, ecco qua è finita anche questa, proprio finita finita, è la 02 Matte Fusion cipria compatta, ecco qua, vediamo se vi riesco a farvi vedere, ok. Ormai compro, compro e ricompro solamente questa perché secondo me è quella che va meglio per la mia pelle e per il mio colore di carnagione e buonissima anche questa. Ecco qua, i miei prodotti finiti del mese di dicembre sono finiti, grazie per essere rimaste con me fino ad ora, spero di avervi fatto un po' di compagnia e ci vediamo al prossimo video, ciao!